Prima di iniziare vi dico che metterò soltanto le immagini dei trailer che ho visto ovvero il season 1 trailer che conosciamo tutti e il season 1 trailer che dura 30 secondi quindi iniziamo Siccome che fra due giorni esce questa serie Aspin Hotel ho deciso di fare una top 5 di tutte le aspettative che ho su questa serie quindi senza perdere altro tempo iniziamo Numero 5 Alastor Un personaggio che mi piace da quando l'ho visto nel pilota che o vabbè oltre a essere creepy è anche diciamo simpatico metto il simpatico perché non so che altro modo dire e non vedo allora come viene gestito questo Alastor come viene gestito questo Alastor? Vedremo come gestiranno la rivalità tra Votz e Alastor visto che Votz apparirà nella serie e come gestiranno anche la relazione diciamo non ho capito se sono fidanzati non mi ricordo però non vedo l'ora che gestiranno la relazione tra Rosie e Alastor quindi non vedo l'ora ragazzi numero 4 i musical qui c'è poco da parlare con i musical gli unici musical che abbiamo visto sono Poison e Happy Day in the Hell gli unici due che abbiamo visto su YouTube o in altri social e non vedo l'ora di vedere negli altri episodi le parti dove cantano ora non sono tanto fan dei musical posso dire la verità non tipo che non mi piacciono eh diciamo non è vero e non vedo l'ora di sentire anche con l'adattamento italiano che è stato fatto visto che saranno anche tradotte con il doppiace italiano e dall'altro non vedo l'ora di vedere due cose allora il primo è la versione in italiano di Poison la seconda ora non ho capito se è confermato oppure no il musical la scena musical tra Ask e Angel o l'hype o l'hype per questo musical tra loro due numero 3 la relazione tra Charlie e Veggie come già dissi nel video del riassunto pilota di Ask me in hotel avevo detto che la relazione tra Charlie e Veggie mi piace voto 10 non vedo l'ora di come gestiranno questa relazione ora non tipo che si separeranno oppure no perché questi due personaggi si amano tantissimo e non vedo l'ora dall'altro di come Seviathan si triggerà tantissimo di questa relazione non vedo l'ora che non vedo l'ora di vederlo soffrire cazzo ok che non è ancora uscita sta serie però non vedo l'ora che Seviathan soffra cazzo ora la gente mi dirà perché ho di Seviathan? che ha stato affatto di male? eeeh eeeh perché si numero 2 lucifer morningstar un personaggio che non vedo l'ora di vederlo è stato già annunciato che apparirà nella prima stagione e in più vabbè ho visto un leak per sbaglio dove c'è coinvolto dove è coinvolto lucifer morningstar ma non dico un cazzo non dico un cazzo perché per chi l'ha visto mi scrive in privato per chi l'ha visto mi scrive in privato per favore però non vedo l'ora di come viene gestita la relazione tra lucifer e sua figlia charlie non vedo l'ora inoltre come già detto nel riassunto pilota diciamo che non gli piace questa idea dell'Happy Hotel però forse però forse nell'episodio dove c'è lui coinvolto credo che cambi idea forse numero 1 i nuovi personaggi qui in questa serie non vedo l'ora di vedere i nuovi personaggi che dall'altro anche sono stati un pochettino intravisti nel pilota e per esempio io ho hype per per diciamo per questo personaggio qui che è vicino a Alastor non Velvet quel personaggio oppure questo 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 lupo questo lupo lupo o lupa che è rosa oppure di questo che cazzo è un serpente o un ragno boh non lo so non so che cosa dovrebbe essere quella roba vabbè e poi c'è anche quel personaggio che non ho capito chi cazzo è però vabbè non vedo l'ora di vedere e in più non vedo l'ora se 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 lui arriva in questo in questa stagione godo tantissimo non vedo l'ora di incontrare anche Buster ve lo ricordate di Buster quella sottospecie di scienziato carino figo bene non so se apparirà nella serie nella prima stagione però se appare si quindi queste sono le mie aspettative su Aspin Hotel non vedo l'ora che esca sta serie e niente ci vediamo ad un prossimo video ragazzi ciao 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 ciao